Inauguriamo questa stagione di premi, direi, andando a prendere i premi delle rivali scambiabili, grado 1, quindi abbiamo un pacchettino mega e pacchettino ultimate, dal quale ovviamente non troveremo nulla, lo sappiamo che non troveremo nulla. Bene, primo, senza perderci troppo, in un brodo di giugiole, apriamo pacchetto mega, il più grande pacchetto disponibile, con 30, sì, 30 oggetti, sì, 30 oggetti, contiene giocatori e consumabili, tutti oro, tutti, di cui 18 orari. Una descrizione epica in maiuscolo, il più grande, sì, 30! Vai, che poi non è vero che è il più grande, perché anche l'ultimate sono 30. Procediamo, via, subito, pacchettino mega, fammi vedere le lucine. Attenzione, no walk out, lavagna, almeno, Francia, DC. Beh! Ah, pensavo che era l'englet, maledizione, gioco! Ah, pensavo che era l'ingletzio! Porca miseria, mi hai fregato! E siamo partiti già male così! Siamo partiti già male così, vabbè, un titiereo là, sarabbia, bastos, beh, questo lo scarto, quelli me li tengo per l'SBC. Cacciatore ombra, ti dirò, puliti. Ho fatto più con cacciatore ombra che con i pacchetti che sono usciti, questi scartiamo tutti. Ebbè, trollati così, via. Pronti, via, subito, trolled! Ma non disperate, perché noi qui abbiamo i giocatori più forti e desiderati. Tutti in un unico pacchetto, tutti in un unico pacchetto. Contine 30 giocatori, tutti or e tutti rari. I giocatori più forti e desiderati. Io ve li faccio vedere, i giocatori più forti e desiderati di questo pacco, quali saranno. Guardate, è anche laggato. E vi dico anche 5, 4, 3, 2, con un rigattoni glitch devastante. Con la mano che scende mi fa anche male la spalla e lo apriamo. Ma te faccio vedere io i pacchetti con i giocatori più desiderati, vai. Fammi vedere. Manco walkout. Vai. I giocatori più forti e desiderati, sì. Onana, Onana è il giocatore più forte e desiderato che io abbia mai voluto nella mia fottuta vita. Adesso se in questo pacchetto di merda non c'è almeno Mendy sotto, la mia vita è una fottuta bugia. Ok? Perché santo Dio, non mi puoi far fare 20k. Guardalo lì che vergogna! Ah no, aspetta, doppioni potrebbe essere doppioni, giustamente. Vaffanculo! Gioco maledetto! Ma implode, questo che ride, zaniolo! Oh my god, fuori tutti! Che amarezza. Ah, Richarlison, fermi! Fermi, non li avevo visti Richarlison e Felix! Fermi! 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 Non li avevo visti! Fermi, quanto costa Richarlison? 20k! È una vergogna! Stava 70.000! 20k, Richarlison! Cioè, se avessi preso i crediti, avrei fatto molto di più! Bene, quindi procediamo all'apertura di questi fantastici pacchetti di Checco The Mod e abbiamo qui un altro gustosissimo pacchetto mega che abbiamo visto come abbia droppato in precedenza. Sul mio fortunatissimo account, purtroppo mi sa che ho esaurito tutto il cu... Attenzione! No, mi era un attimo perplesso con quelle bandiere laterali. Che succede? Bene, neanche lavagna, perfetto. Chi è? Baclick! Ottimo! C'è il nome di un clistere, Baclick! Per... Eccala! Ansufati? Potrebbe essere mezzo decent, non te lo so dire. Poi per il resto, Lana Merinos... Beh... Che dire? No, l'esultanza momento decisivo a Checco The Mod so che è un bel try harder potrebbe piacere. Mica l'ho scartata di nuovo. Vabbè, questo ci teniamo tutto. No, ok, è lì l'esultanza. Bene! Eccoci di nuovo di fronte a questo maestoso pacchetto ultimate. Amici miei, che ve lo dica fa? Io non so neanche come ormai approcciarmi a questo pacchetto ultimate. Proviamoli tutti, glitch. Che ore sono? Sono le 11.43. 4 e 3, 7. E 2 fa 9. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Via! Andiamo. Su! Pacchettino ultimate. Luci o walkout? Attenzione! Checco The Mod? For the win. Chi sei? Polonia. Au? Vedi checco The Mod? Che disonesto? Checco The Mod è un fottuto disonesto. Perché questo qui, io vi dico immediatamente quanto costa. Fammi vedere quanto costa. 180.000! Costa 180.000! Sotto ci può sta qualcosa. Schippiamo? Schippiamo immediatamente? Che cosa c'è? Portu? Portu non costa poco. L'ho scelso pure qualcosa in avale. E io c'ho paura dei doppioni. Fammi andare a vedere i doppioni. Guardalo! Guardalo che disonesto! Io lo sapevo! Lo sapevo! Che cazzo sto vedendo? Che cazzo sto vedendo? Che cazzo sto vedendo? Quanto costa Rashford? Che pacchetto è? Un pacco da 400.000! Un pacco da 400.000! Così! Cioè! Io ve l'ho detto che checco The Mod è disonesto! Cioè! È una roba vergognosa! Posto. Bene! Quindi eccoci qui. Con i premi del Fantastico Anto. Al quale auguriamo una pronta guarigione. Visto che si è operato al crociato. E speriamo che questi pacchi possano alleviargli un po' il dolore dell'operazione. Quindi yay! Per favore! Stiamo parlando di un lungo degente. Partiamo dal pacchetto giocatori zinco rari. Eccolo qui. Un pacchetto ibrido. Con giocatori oro e argento. Continua. 6 oro e 6 argento. Tutti rari! Tutti! E fammeli vedere, vai! Sti giocatori 6 oro e 6 argento. Sono curioso. Forza! Sono proprio curioso di vederli. Cioè! Li aspetto con ansia. No walk out. Bene! Show me! ATT! E D? No! Visca! Bene! Subito! Visca! Visca! Visca Barça! 83! Marcio come poche cose al mondo. Vabbè, se lo può stuccare da super sub il buon anto. Requiyon non è malvagio. Sto Hatsu secondo me si potrebbe... No! Si potrebbe vende. Vabbè, questi ce li butto al club. Se li gestisce lui! Bene! Sti due pacchetti mega rari, io solitamente qualcosina di sfizioso l'ho sempre cacciata fuori. L'ho sempre cacciata fuori. Non capisco perché stamattina non droppano. Quindi non lo so che cosa mi posso inventare. Facciamo un nose pack. Apriamolo col naso questo. Apriamolo col naso. Vediamo cosa ci aspetta. Attenzione. Niente. Sarà sicuro la vagna è che vedo il fumo. Ok. Inghilterra. E... Amici miei le mani! Il naso! Il naso fatato! Il naso! Fatato! Fatato! Mi chiamavano Remmida! Remmida! Tutto quello che tocco stamattina diventa oro! E oro! E oro! Col naso! I glitch! Glitch definitivi! Tiè! Mo sotto c'è qualcosa sotto! C'è qualcosa! No, non c'è niente! Ma va bene così! Pure doppione! Pure doppione! Tiè! L'unico doppione! Guardalo lì! Marcus! Procediamo con l'apertura dei premi di Artrax. Quindi raga, al solito... Per il momento, quindi, aprirò i premi! A parte che c'è una quantità di pacchi devastanti... Ah, c'è pure degli aggiornamenti... C'è pure degli... Ah, beh, gli aggiornamenti apriamoli senza YouTube, perché tanto da questo è proprio difficile che si scula una mezza cosa. Se poi succede qualco... Cioè, raga, scusatemi! Io non lo so cosa sta succedendo stamattina! Non lo so! Non lo so! Ma come cazzo è? Come cazzo è? Aggiornamento oro qua! Aggiornamento! Che cos'è? Che cos'è stamattina? Disonestà! Disonestà!